bene un saluto a tutti bentrovati a questa nostra nuova clipping night e io come sempre controllo anche il nostro canale vediamo un pochino se se perfetto se se sembra andare benissimo bene così allora un saluto da tutti e bentrovati alla nuova che finite di blog prima di cominciare come sempre anche prima di introdurre un po l'argomento della serata qualche piccola notizia sul canale sta continuando il nostro mese napoleonico ciao caliban ciao tra l'altro ditemi se si sente bene e come sempre tutti i soldi problemi con stream yard che le connessioni che abbiamo però un par che vada tutto bene stasera dicevamo allora stanno avanti il mese napoleonico su blog sto ricevendo veramente molti commenti mi fa piacere che questa iniziativa vi sia piaciuta magari a in futuro anche faremo altri mesi tematici questa volta ovviamente l'occasione era quasi doverosa visto che si trattava del bicentenario della scomparsa di di napoleone a saluto anche erico musante si sente benissimo perfetto stasera sembra che sta andando bene e dicevamo quindi noi andremo avanti con questa iniziativa per tutto il resto del mese di maggio abbiamo già fatto le prime due puntate del nostro dei nostri speciali sui giochi napoleonici 10 giochi per l'imperatore i giochi strategici e i giochi tattici a breve già ve lo dico perché penso già di registrarla penso già in questo fine settimana ci sarà la puntata sui giochi narrativi già vi do questa anticipazione ossia su quei giochi dedicati a napoleone e all'epoca napoleonica che però a me sono particolarmente piaciuti per i loro aspetti di narrazione e dell'epopea napoleonica da vari punti di vista poi li vedremo li vedremo insieme molto presto un saluto anche riccardo minichetti ciao carissimo piacere trovati qua e allora nel frattempo però diciamocelo purtroppo è stata una settimana per il mondo della ricerca storica e anche del work game che purtroppo è stata non è stata da una brutta notizia la scomparsa del professor zotti e che è tra l'altro punto storico italiano di 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 grande fama che era anche però come da tradizione io dico sempre come da tradizione della storia militare italiana molto vicino anche al mondo del work game aveva fatto diverse diverse puntate con con vari canali dedicati al work game il gennizero e non solo anche a tanti altri che aveva fatto diverse collaborazioni poi anche per convention anche per eventi quindi era un nome che a noi work game istima in generale agli appassionati di storia militare e non solo del nostro paese era molto noto purtroppo è venuto a mancare però ecco noi appunto appunto andiamo avanti e andiamo avanti con le iniziative poi dopo parleremo anche delle prossime iniziative già vi dico allora domani su su twitch quello vedete trovate i link su internet con fred serval con jan heinemann e con julius firefox michel di voglio in tv mauro faena saremo in diretta al live al game symposium della bradley university dell'illinois quindi un po emozionato domani sera alle 8 e 30 su twitch per il game symposium con un evento speciale dedicato al al diciamo alle caratteristiche le problematiche ma anche i vantaggi e le opportunità offerte dal da una cosa che qui noi facciamo sempre cioè parlare di work game che è un hobby prettamente prettamente americano insomma il work game moderno nasce in america o comunque sia è potentemente anglofono per molto tempo è stato dominato dalla cultura anglosassone ma diciamo il work game bidimensionale da tavolo soprattutto della cultura americana ecco parleremo di problematiche con questi grandi content creators questi grandi creatori di contenuti blogger e non solo di che cosa significa parlare di work game un hobby prettamente americano con buona parte della produzione non solo una parte della produzione americana con così molto inserito nella cultura americana parlarne da non americani verso magari non americani e quindi è una tematica un po particolare che abbiamo voluto scegliere con fred e jan perché appunto fred francese jan è tedesco io sono italiano dico sempre che noi tre sembriamo una barzelletta assieme però ci vogliamo bene stiamo bene benissimo insieme e quindi parleremo di questo di queste caratteristiche con altri content creators non americani in università americana e quindi sarà un bel momento di incontro e di di confronto culturale il tutto sul terreno sul terreno del gioco di simulazione e sul terreno anche della percezione dell'immagine storica della consapevolezza storica nel frattempo io saluto anche federico sirtori e michele cremonese ciao ciao ragazzi ben trovati qui quindi questo evento della bradley university il game symposium zone connection domani sera alle 8 e 30 ora italiana e poi avremo anche altri eventi io vi ricordo sabato 29 dalle 11 alle 13 ci sarà il mio evento nell'ambito mi avete un elemento in cui io farò da moderatore nell'ambito della della film virtual virtual convention un incontro con i più grandi e alcuni tra i più grandi produttori editori di giochi italiani sulla tematica delle nuove linee di evoluzione non in tendenza nel board game design film virtual convention andate trovate link sia da me che altre parti iscrivetevi saremo appunto una live per due ore su discord quindi è ovviamente anche con la possibilità di interagire con questi grandi soggetti e di queste grande case produttrici e case editrici italiane di e di board game però ovviamente la virtual convention della fiva ci sarà veramente tantissima trova ci saranno tanti altri eventi e io poi dopo seguirò anche altri eventi una che una bella chiacchierata con il nostro caro amico andrea angiolino sul mestiere dell'autore di giochi quindi tante altre cose poi metti giochi conferenze demo veramente sarà una grande una grande esperienza convention virtuale dedicata al board game tutta in italiano con alcuni eventi in di nuovo in in questa nera però prevalentemente in italiano sabato 29 quindi sabato non questo arriva non domani ma sabato della prossima settimana non mancate iscrivetevi perché veramente è una grande esperienza allora però adesso dopo tutto questo bel cappello iniziale abbiamo passato sette minuti 58 di introduzione dai adesso andiamo andiamo dritti al all'argomento della serata clipping night che è dedicata ad un argomento veramente problematico e anzi da due argomenti problematici che sono quelli del prezzo e della reperibilità del del war game prezzo e reperibilità del war game sono argomenti di cui io parlo però soprattutto per quello che riguarda i prezzi lo sapete tendo cioè ne parlo tranquillamente però tendo non pestare troppo perché il discorso del prezzo entriamo anche nell'ambito di valutazioni calcoli da parte delle case editrici calcoli commerciali costi benefici eccetera sulla quale noi da utenti anche da studiosi anche da critici però non possiamo dire più di tanto perché non siamo all'interno dei bilanci di queste case editrici e quindi conoscendone molto anche soprattutto italiana ma sono sicuro che anche il di fuori nessuno pensa di fare chissà quali guadagni stratosferici con il war game è chiaro che se mettono il war game ad un certo prezzo hanno i loro ottimi motivi per questo io sono sempre molto attento anche nelle recensioni lo vedete certo ne parlo quando c'è un discorso di prezzo e tutto però ecco non mi ci butto troppo e poi l'altro aspetto quello della della reperibilità e stevenetti war game ne parliamo sempre ma quasi sempre la domanda che mi fate ma giustamente anche vedete che io poi sono anche colpevole un po così di fomentare acquisti a destra e sinistra però poi mi dite sì ok lo vorrei tanto acquistare questa roba bellissima e mi hai parlato per un'ora e mezzo di uno di un gioco che vorrei disperatamente ma non lo trovo da nessuna parte quindi la è una problematica che c'è e la serata di clipping di stasera appunto è dedicata a questi due argomenti che sono roba molto pratica molto concreta però molto vera per noi appassionati di war game o vi introduco anche il gioco di cui che andiamo a clippare questa sera e che è contenuto in questa roba qua eccola qua si vede sì che si vede parabellum 9 eccolo qua appena appena uscito io da bravo abbonato mi è arrivata qualche giorno fa me la sono già divorata uh e vabbè è il nostro caro enrico bonsoir enrico escervi enrico cerbi lo salutiamo che appunto tiriamo fuori parabellum ricordiamo il suo e nella numero 8 c'è il suo voi bravi ed infelici su tolentino sulla battaglia dolentino dicevo questa sera il gioco che andiamo a clippare è de bello punico che all'interno di parabello un numero ricchissimo sia di articoli che di giochi perché all'interno trovate uno scenario per bandite uno scenario che era già stato fatto uscire un vecchio parabello precedente sugli scontri tra partigiani e soldati della della repubblica sociale italiana il focus della ce ne è presa che fa un po i capricci vabbè prima o poi si rimetterà a posto ecco si è rimesso a posto e uno diciamo un minigioco anche autonomo diciamo per 300 letter mobili e poi un bellissimo quadri game del nostro caro riccardo affinati quadri game che è de bello punico de bello punico appunto con quattro battaglie del della seconda guerra punica quindi veramente molto particolare e molto bello molto bello andiamo questa sera a clippare io vi faccio vedere questi counter qui che fra l'altro sono fatti anche no ecco magari così sono fatti anche molto bene poi di de bello punico ma più in generale di parabello un po ne andremo anche a parlare saluto anche di otto ecco di qua ciao bellissimo ben trovato benvenuto siamo tanti stasera mi fa piacere mi fa piacere tantissimo e non so se l'ho salutato anche federico siltori ecco che qua michele cremonese quindi insomma buonasera a tutti ecco allora cominciamo al con il nostro clippaggio allora e cominciamo a parlare anche e di di questo argomento ripeto a de bello punico l'ultima cosa fatemi dire magnifica parabellum segna anche un po è bello avere tra le mani un gioco di riccardo affinati nome storico del world game italiano e fra l'altro questo deve lo punico è un evoluzione del suo l'eclissi di zama che era un gioco che io mi ricordo dai tempi di strategia e tattica 1989 bellissimo quindi è veramente un salto nel nel passato ed è un gioco appunto molto semplice quattro cinque pagine di regole però che rimane in quella linea evolutiva di giochi che va dai vecchi prestag del del spi poi ansia della 3w ansia battles deluxe e adesso dawn of battle quindi più o meno quest'idea del gioco antico leggero semplice molto molto immediato e fatto con enrico proprio oggi abbiamo avuto una lunga chiacchierata poi lo trovate su valgame e valcon su dawn of battle anche dawn of battle dawn of battle ne parleremo ne parleremo qui sul blog e come di parabellum e de bello punico o mi arrivano un po di notizie enrico sì l'ho letta l'ho letta questa qui scoop nuovo p500 è uscito proprio tre minuti prima di questa puntata evidentemente la gmt giustamente stanno qui ad aspettarci quindi ovviamente ci regalano questi scoop triumvir progettato da mark herman e geof engelstein gioco simile a versaio politico sulla repubblica io mi ricordo che diversi anni fa ero in una modena quando presentai mettere in gioco il passato con gli altri co autori di mettere in gioco del passato che anche lì di un po lo stucco perché in un'intervista da robbie canan herman e ha detto guardate che stiamo facendo una roba tipo the plot to assassinate julius caesar il vecchio del plot to assassinate hitler e quindi eccolo qua non è proprio come quello però l'idea è questa e quindi questo sarà veramente molto 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 interessante fatevi ho letto un pochino la descrizione fate vari trini mobili e dovete fare delle politiche e sulla base delle politiche che voi adottate scontentate qualcuno accontentate altri mi ricordo un filino ma come concetto poi non lo so magari meccaniche anzi sicuramente meccaniche diverse quel bellissimo gioco che optimates et populares della holland spiele che è più o meno su questo però qui secondo me sarà molto più pronto incentrato sul triumvirato questo sarà molto molto interessante giuseppe di otto cosa ci dice serata sui prezzi dei war game ne abbiamo discusso diverse volte nei commenti dei tuoi video e infatti sì ecco anche da questo io ho voluto un pochino questa sera veramente parto un po dai commenti che voi avete fatto ai miei video e allora adesso entriamo direttamente direttamente nell'argomento e poi appunto come sempre ne parliamo le chiacchieriamo assieme e parliamo dal prezzo partiamo dal prezzo premo dal prezzo molto spesso ecco appunto parlando dei io intanto giochi però questo gioco di cui tu hai parlato io me lo trovo a 70 75 addirittura 80 euro laddove molto spesso poi dopo viene fuori anche questo confronto un tipico euro game ma io con quei 30 40 50 euro me lo sono me lo sono portato a casa anche se diciamocelo ormai anche gli euro game anche più di massa magari anche localizzati cominciano già a viaggiare su altre su altre cifre diciamo lo standard sta ormai veleggiando intorno ai 50 una volta stava più sui sui 40 è chiaro però che magari il gioco un pochino più leggero voi lo trovate 25 30 da che cosa deriva questo qual è che cosa deriva questo questo distacco di prezzo ecco beh è facile dirlo è facile dirlo una delle delle cause più più immediate che è facile che è facile individuare è quella del fatto che quando noi parliamo di di euro game o comunque sia di giochi più più giocati di massa ci siamo di fronte dei prodotti che hanno delle tirature molto più elevate primo problema è chiaro che se voi un gioco ma questo lo sa chiunque abbia lavorato comunque sia conosca anche minimamente il gioco del gioco sì il mondo dell'editoria è chiaro se un qualsiasi libro o gioco quello che vuoi poi lo fate in lo stampate in cento mille diecimila copie centomila copie avrà un prezzo unitario molto diverso di produzione e quindi mi più basso è il prezzo di produzione più alta è la marginalità cioè quanto effettivamente il prodotto riceve a guadagnare quindi può anche magari adottare politica di prezzi più aggressivi se io so che venderò 50 mila copie di un gioco posso anche calare indietro di quei cinque dieci euro perché tanto me li recupero in quantità invece i war game che dimentichiamoci le cifre delle dell'età dell'oro quella delle spi del lavoro di il canale a decine di migliaia se non centinaia di migliaia in alcuni casi di copie con le stampe tutto il resto nella stragrande maggioranza dei casi se noi andiamo a tirare via alcuni casi veramente limite come può essere stato un twilight struggle o anche alcuni dei dei commands and colors no more eccetera noi parliamo di giochi che alla fonte in america dove vengono prodotti viaggiano sulle cinque sette mille copie cinquecento mille copie non di più mille cinque per dirvi ma in generale potrei pensare sì appunto questi sono le quantità più o meno a singola stampa è chiaro che i costi di produzione sono più alti perché li abbattete molto meno facilmente e quindi i margini sono più ridotti e quindi l'editore deve mettere con un prezzo più alto questo è probabilmente la causa principale poi ce ne sono altre per esempio anche il discorso dei materiali voi mi direte è vabbè ma i materiali di un euro game con tutte quelle miniature teoricamente costano di più però di nuovo le marginalità le dinamiche di produzione guardate che fare anche dei counter sheet fare tutte quante le mappe le grafiche tutto quanto ha un suo costo altra cosa poi ormai spesso anche i war game insomma anche i giochi di simulazione storici hanno le loro carte e voi non avete idea di quanto costi inserire dei mazzi di carte stamparli tagliarli bene tutto all'interno di all'interno di un gioco quindi anche alcuni materiali soprattutto quando andiamo a parlare di casi produttrici non di dimensioni limitate come anche molte americane perché anche quelle che voi vedete gmt compass non pensate anche decision non pensate che abbiano chissà quali quali estensioni anche lo che lo decedrà ma poi se andiamo a parlare usciamo fuori e andiamo perfino in francia oppure anche in italia stiamo comunque parlando di quelli che tecnicamente nel mondo dell'editoria dell'editoria vengono considerati dei piccoli editori e quindi case produttrice di dimensioni e di margini di capitale forzatamente obbligatoriamente obbligatoriamente limitati quando non parliamo delle nostre case editrici nazionali qual è un altro motivo che alza i prezzi perché io sto dicendo le cause un po poi ce ne sono tante diciamo le cause in generale per cui non vi dovete sorprendere se trovate certi prezzi c'è un discorso anche del delle delle importazioni cioè magari se un gioco me lo devo far venire dal dall'america ovviamente ho anche le spese di trasporto le volte la dogana e tutto quanto poi ci sono i casi assurdi in cui c'è un gioco che viene dall'america ma è stato stampato in ciclo slovacchia poi niente in repubblica c'è con la chiesa in massa indietro ripubblica c'è arrivare gli stati uniti con dei pezzi dalla cina poi dopo ritorna qui tutto quanto e insomma tutti questi giri alzano i prezzi enrico ecco enrico ci dice anche scusatemi caliman dirò una maledità per per molti ma quei pochi siti italiani che vengono war games sono più cari siti francesi tedeschi per con i giochi ci sono differenze di decine di euro sì poi questo poi dopo siri vedete c'è un po ci viene un pochino la percezione ma stanno cercando un po di fregarci guardate anche i negozi italiani pure loro hanno delle delle problematiche non mai poi è chiaro che trovi quello onesto quello che non dico disonesto ma insomma che magari quei cinque dieci euro che li potrebbe tirare via e non ci perderebbe niente però insomma è chiaro hanno le loro problematiche anche perché negozi italiani il war game c'è un'altra cosa un altro problema che è lo stock cioè se lui si prende cinque cinque giochi cinque scatole proprio un gioco perché magari la casa editrice americana dice se tu non me ne compri cinque io non te li mando perché non ci rientro con le spese lui c'ha uno stock di cinque giochi che gli rimangono il war game è di nicchia purtroppo io continuo a dire sempre purtroppo e quindi è chiaro che avrà un restock molto più lento andiamo avanti allora enrico musante stasera la sede scatenata mi fa piacere tantissimo veramente questo è un argomento ma lo sapevo che è un argomento che vi sarebbe interessato non è solo il costo di produzione sono anche i costi fissi che devono essere spalmati su 500 oppure 5.000 copie certo non è solo il costo di produzione della copia ma c'è anche un costo fisso il grafico il materiale il packaging del trasporto tutta questa la stampa tutta questa bella roba qui costa poi enrico che appunto anche come ci dà ci regala un po anche la sua esperienza di autore di giochi negli usa credo che si facciano a meno 1.500 2.000 copie si più o meno siamo quello in italia 500 copie access ma non è solo access immagino anche europa simulazione e anche altri vadano su queste su queste non lo so e non lo so però diciamo sicuramente sono su questi ordini di grandezza ma stampare 2.000 copie in cina e 500 a monza a costi molto diversi e fra l'altro anche sfatiamo una cosa diciamo ma perché in cina non è che ci hanno chissà qualità quale qualità di stampa no c'è una buona qualità di stampa c'è un'ottima qualità di stampa ormai quindi anche questa cosa qui però poi anche la pandemia ha un po' anche ridisegnato alcuni equilibri da questo punto di vista poi diciamo anche quindi non mi sorprenderei di vedere un po di localizzazioni successi perché ha creato dei problemi a catena logistica e più che altro ha fatto vedere quanto sono fragili le catena logistiche ti si blocca una cosa in cina e ti si blocca tutta una catena logistica francesco neri io rimarrei sulla questione tiratura perché un gioco con tabellone normale una foresta una stella di segnalino mazzo di carte costa 10 dollari di produzione costi designer a parte dipende dipende sì ti costa 10 dollari e sì però ti costa 10 dollari proprio fisico di materiali però tu c'hai tutta una serie di costi fissi e hai appunto dei costi di magazzinamento di stock perché di inventario questa è una cosa che poco che non si sa se non si è lavorato nel mondo dell'editoria stampare una cosa e non venderla e tenertela in magazzino a un costo perché tu stai tenendo bloccato uno spazio e non stai producendo altro quindi ha effettivamente un costo una cosa un po indiretta però c'è oppure non te la comprano nei negozi e quindi non entra nei negozi non entra nei negozi fisici neanche nei negozi online quindi ovviamente tutto questo ve l'ho detto crea tutta una serie di problematiche questo per farvi capire se i produttori mettono anche italiani mettono determinati e determinati prezzi purtroppo lo fanno per delle ragioni specifiche poi ci sono dei casi limite sappiamo anche insomma che veramente trovate un gioco a 140 euro perché perché c'ha 8 9 fustelle e allora lì sì vabbè allora anch'io lì mi arrabbi dice vabbè dai su ragazzi qua state veramente esagerando i fatti non li compro però ecco se si trovano questi 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 prezzi purtroppo c'è e c'è una c'è una motivazione poi magari vedete che sia il produttore o anche il negoziante quando c'è una convention cercano di venire magari di venire un pochino incontro allora quei 5 10 euro di sconto riescono a farveli però per piacere facciamo una cosa te lo dico appassionato del settore ma anche per i nostri amici produttori perché sono dei nostri amici senza di loro i giochi di cui parliamo e cui stiamo facendo tutto questo bel tipping non ci sarebbero quindi questo sempre dobbiamo ringraziare per il loro lavoro la loro passione perché va sicuro nessuno è mai diventato straricco in questo mondo almeno adesso in questo periodo qua evitiamo le convention o la convention allora me lo fai lo sconto di 5 euro allora me lo fai con sconto di 10 euro se il negoziante o il produttore te lo può fare tranquillo che te lo fa ecco no cerchiamo di capire che siamo noi di chiaro io sto acquistando una cosa tu me la stai vendendo quindi c'è un rapporto di compratore venditore ma che siamo completamente sulla stessa barca in posizione per italia però siamo nello stesso mondo poi in italia soprattutto seppena produttori italiani ci conosciamo e benissimo ci vediamo ci incontriamo e spesso giochiamo assieme quindi è solo persone che hanno fatto magari della produzione dei giochi la loro occupazione principale della vita quando ci riescono quindi francesco neri dice scusatemi scusatemi enrico cerbi ricorda francesco neri che la cosa che costa di più è la scatola è vero il packaging l'illustrazione la fattura della scatola volete fare una prova andate a vedervi su amazon ebay quanto costano i countersheet vuoti questi che ci sono anche quelli della gmt e quanto costa invece se la trovate una scatola tipo di una di quelle dei giochi datevi vedere bianca fate un po un confronto di solito un countersheet siamo sui 3 4 euro una scatola a da spille material io l'ho trovata a 8 9 euro quindi cerchiamo di capire e questo i costi al dettaglio caliban certo oltre al discorso di stock anche tassi maggiori sostenuto da parte del negoziante qui da noi inoltre giochi fatti qui erano cose funzioni maggiori anche appunto continuiamo a dirlo per le basse tirature che alla fine ci giriamo ma è quello poi dopo vediamo perché crea un circolo vizioso questa cosa quindi tutto questo però ecco da un lato ci deve far ricordare che insomma dobbiamo avere anche compressione nei nei confronti nostri e dei nostri amici produttori di giochi se italiani che non solo poi di nuovo isolando i casi i casi limite che ci sono sempre però ecco ci porta ad una cosa che io spesso vedo e me dispiace un pochino vederla questa cosa di gente che si arrabbia anche gli appassionati che dicono eh ma quella casa produttrice quella casa editrice ha voluto guadagnarci sopra con questo gioco ha fatto questa ristampa perché ci vuole guadagnare sopra sì ci piaccia o meno i giochi sono dei prodotti editoriali esattamente come i libri sono fatti per essere venduti poi se sei un produttore serio cerchi di unire l'aspetto commerciale con l'aspetto qualitativo e quindi va bene ma i giochi devono essere venduti perché se la gmt non ha un ricavo sul gioco che vi vende sul gioco uno che vi vende non avrà i soldi per produrre il gioco due il gioco tre o il gioco quattro soprattutto se il gioco uno è twilight struggle che è un giocone anche che va al di fuori il mondo del wargame non ha poi il margine per produrre il gioco sullo sbarco a gallipoli della prima guerra mondiale eh che interessa molte meno persone rispetto a twilight struggle quindi sì sono prodotti commerciali quindi sì devono vendere quindi sì il nostro interesse fra l'altro è che vendano il più possibile soprattutto i giochi generici giochi più ad aspetto più ampio perché con quei soldi si finanziano i giochi magari più specialistici mi si finanzia a me il gioco sulla guerra franco indiana ad un altro appassionato della prima guerra mondiale gioco sulla prima guerra mondiale ad un altro sull'afghanistan con gli inglesi nell'afghanistan e questo vale per tutti soprattutto per i piccoli produttori carini giochi della revolution eh o della legion wargames e però eh sono a tirature bassissime e devono vendere per poi farmi il gioco particolare sulla seconda giornata di Gettysburg o su Napoleone a Tolone ecco eh Federico Sirtori eh continuo a seguire i vostri commenti in parallelo i prezzi giochi GMT se che siete chiusi sono accettabili ma trasferizione eventuale dogana conviene ancora comprare in Europa poi dopo dovete fare questo è il problema dei P500 eh che alcune volte se comprate cose grosse in P500 che costano molto vi conviene ho fatto questo calcolo se comprate le espansioni più piccole no perché i prezzi fissi vi sballano tutto l'equilibrio Caliban 29 Fin Red Lines vendono quasi completamente all'estero sì questa è la loro scelta territoriale però eh legittima scelta territoriale che hanno deciso di concentrarsi sul mercato estero va benissimo non è un problema di nuovo è una scelta è una scelta anche commerciale ma è giusto ragazzi questi ci devono vivere non è che fanno i giochi per per passione o perché sono diventati tutti dei missionari e allora disperatamente dobbiamo fare il gioco dobbiamo anzi regalarlo diffonderlo a gratis sì è bello di nuovo l'amico affinati a Accademia War Game fa un sacco di giochi che li fonde gratis ma però giustamente li fa in print e play poi li stampate voi una casa elettrice deve campare deve andare avanti sennò il gioco sennò dura un anno e poi il gioco non li fa non rifacciamo l'errore degli anni 80 facciamo il gioco perfetto bellissimo anche se lo se lo comprano solo nei venti amici miei e stiamo bene e poi dopo un anno boom la casa fallisce e non ne fa più e il mercato il settore soprattutto tende praticamente a morire eh Francesco Neri dice chissà perché debba infastidire che su un gioco ci sta dietro qualcuno che ci deve mantenere la famiglia buona fortuna questo vi dico a mantenerci la famiglia con il fare giochi perché ripeto soprattutto nel mondo dei war game è decisamente difficile però io manca molto semplicemente non capisco perché debba infastidire il fatto che qualcuno guadagni ma legittimamente perché è un'impresa commerciale con il fare un con con un gioco perché se no non sarebbe una casa elettrice se no non li produrrebbe e ragazzi è così che funziona ma è giusto perché questo poi dopo genera una competizione un'evoluzione una ricerca anche dei gusti del pubblico un rapporto con il pubblico sono cose normali sono cose sanissime il gioco non è se noi togliamo l'aspetto commerciale sembra brutto dirlo ma rimane solo una cosa per pochi eletti e allora continuiamo solo a giocare i vecchi giochi gli anni 80 che però erano stati fatti qualche anni 70 che erano stati fatti anche per vendere quindi non ne usciamo più ripeto è un bene perché quei soldi vengono reinvestiti per fare altri titoli magari più specialistici caliban dice infatti ci sta che scegliano di fare così anche per fare ad esempio che in italia più difficile per certi versi più difficile persa per altri versi più facile ci sono sempre i vantaggi e gli svantaggi però veniamo un attimino ok prezzo più alto ok tirature più basse quali sono però i controvalori di un gioco di simulazione in generale e di un war game anche ci sono anche dei motivi che non dico che giustificano il prezzo però insomma ve lo fanno soffrire un po meno vediamo anche un attimino il bicchiere mezzo pieno la scusatemi vediamoci l'acqua dalla bottiglia mezza piena scusate questa non è la scuola che mi sono danno la testa queste acqua dicevo vedendo vedendo il il nostro il bicchiere mezzo pieno anche il lato positivo che un po non dico che ci giustifica ma ci fa può sentire meno questo prezzo comunque oggettivamente più elevato per una scatola che magari non mi contiene miniature già sulla mappa e due fustelle di hunter ma perché anche o quantomeno che cos'è che dobbiamo anche mettere sull'altro piatto della bilancia beh intanto alcuni valori il pieno di tutto il valore della cerca storica allora io non dico che lo sapete non ho mai detto neanche degli euro game che non mi piacciono sicuramente non degli euro game che mi piacciono che non sono pochi e fra l'altro ne uscita anche uno da poco di un imperio ma che poi anche su quello faremo una puntata mettendo il confronto col vecchio dune e le differenze tra un gioco di simulazione e un euro game proprio concettuali non mi dispiace per niente anche se ai suoi limiti ma va bene però ripeto io non è che dico che gli euro game è facile farli facile crearli mi tra farò game difficilissima fare un euro game sono bravi tutti no per certi versi è più difficile perché tu appunto avendo una tematica meno stretta dei un rapporto meno stretto con con l'ambientazione con gli eventi devi badare di più alle combinazioni matematiche c'è tutta un'altra serie di problemi devi devi aumentare il bilanciamento devi fare più attenzione alle condizioni di vittoria insomma tutta un'altra cosa cioè per certi versi è anche più difficile però c'è un valore che è fondamentale nel gioco di simulazione soprattutto il gioco di simulazione storico non solo in quello però diciamo rimaniamo nell'ambito del gioco di simulazione storico è il valore della ricerca e se voi vi mettete e qui abbiamo abbiamo anche degli autori qui in chat se voi vi mettete a fare ricerca per fare un war game non è semplice non io è più difficile che fare ricerca per un libro no 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 non è più difficile però è diverso perché un libro comunque sia un assaggio storico voi potete avete più libertà potete non dico mettere ma insomma parlare un po meno di determinati argomenti che magari non vi interessano non ritenete importanti o comunque trattarli in una certa maniera con una certa libertà in un gioco di simulazione non più di tanto perché voi dovete creare un modello soprattutto modello diciamo così matematico e statistico che funzioni e quindi dovete cercare di avere una ricerca storica quanto più possibile approfondita e ampia e anche poi dopo combinare dopo avete fatto tutto questo bel lavoro mi avete trovato tutta una bibliografia di 20 test diversi poi dopo combinare questa roba perché sia giocabile per questo anche io continuo a dire che fare un gioco con tante regole è più semplice che farne uno con meno regole perché le meno regole un gioco di simulazione soprattutto le regole devono essere più bilanciate e più incastrate tra di loro però ecco quindi avete questo anche da mettere sull'altro piatto piatto della bilancia poi avete altri grandi e importanti e un altro grande importante valore che dovete sempre ricordarvi è il valore della rigiocabilità a dispetto di quello che ci dicono questo sì i nostri amici euro gamer che dicono ah i wargames sono tutti uguali una volta che ne hai giocato uno nei giocati tutti io io sfido sfido gli euro gamer tranne quei due o tre titoli che sono fondamentali un quarto ricco ma può essere anche il grande altri io sfido perfino katan o carcassonne anche più semplice a trovare un euro game che dopo 40 anni vi ridà le stesse identiche soddisfazioni della prima volta questa è una roba che per me per me è normalissima con i vecchi giochi di spiai io apro un gioco di spiai che c'ha forse più anni di me ancora adesso per carità potrà avere i suoi limiti ma la sua rigiocabilità è assolutamente intatta a come quando io lo giocavo da ragazzino ora questo il mondo degli euro game che è più legato alla novità del momento questo non ce l'ha ma perché non c'è l'attenzione niente snobismo no sul blog lo sapete non abbiamo snobismo ma ma per un motivo molto semplice perché l'euro game non fondandosi su una ricostruzione storica ma fondandosi su delle meccaniche dirà tutta la sua importanza proprio sulle meccaniche perché a un certo punto si dice che un euro game o un german è bellissimo perché normalmente fateci caso perché ha trovato perché ha trovato un'altra meccanica si dice nel giro ha trovato questo utilizza il deck building questo utilizza il gioco ad aste questo utilizza il gioco di maggioranza e sì però la meccanica di per sé finisce nel tempo perché è qualcosa che non ha un aggancio con la realtà e quindi ci crea una certa attenzione però solo per un certo periodo di tempo finché qualcuno non trova una meccanica è migliore la prima guerra mondiale c'è stata ed è lì e rimane lì la seconda guerra mondiale c'è stata e rimane lì il periodo napoleonico c'è stato e rimane lì i giochi i war game non si basano diciamo sempre sulla meccanica si basano sul periodo sul contenuto e quindi io se mi se io sono preso dall'idea del periodo napoleonico mi posso giocare war in peace vecchia edizione mi posso giocare in paese in maps mi posso giocare coalition ma me li posso giocare adesso come tra 30 40 anni e quindi il valore della rigiocabilità e dell'attenzione al gioco di un gioco di simulazione è molto 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 più elevato non perché sia un gioco migliore ma perché è molto 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 più elevato il valore di tra virgolette rigiocabilità della storia vediamo un pochino voi intanto state andando avanti stanno facendo anche voi delle discussioni interessanti infortunatamente alcuni editori ci dice federico assieme ai nuovi progetti su kickstarter permettono l'acquisto dei prodotti a catalogo garantendo prezzo basso di spedizione eo friendly si quando ci riescono menichetti dici giustamente ecco qui riccardo poi ne parliamo di questa cosa il miglior modo per contenere i prezzi del game è quello di far crescere appassionati giustissimo mi avete ricevuto una cosa di cui parleremo tra poco e anche ricco cerbi parla del fenomeno kickstarter anche di questo adesso poi parleremo perché a kickstarter c'è tutto un altro discorso che meriterebbe e meriterà una una puntata a parte che sicuramente sì sì sicuramente la la faremo però ecco dicevamo quindi il valore della ricerca storica il valore della rigiocabilità che ci portano anche al valore della persistenza nel tempo è inutile il il gioco di 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 simulazione e ha una longevità proprio molto più molto più alta tra l'altro un'altra cosa della rigiocabilità c'è anche un altro aspetto da dire la profondità attenzione non perché gli altri sono piatti no la profondità nel senso se io mi prendo local the tactical system anche una scatola c'ha 15 scenari io vi sfido da noiarvi dopo aver giocato con gli unici scenari poi dopo vi prendete la scatoletta il modulo successivo che c'è il generatore automatico dei scenari ma anche un gioco con uno scenario solo hai voglia a giocarlo a esplorare tutte le tante possibili anche un gioco su waterlock e fino un gioco semplicissimo come w1815 hai voglia di esplorare tutte le possibilità una partita prova ad attaccare a destra un'altra partita no mi chiudio sulla difesa un'altra mi concentro su un modo un'altra non merifica niente mi preparo subito a tenere i prussiani avete una quantità di opzioni enorme molto più elevata degli euro games che lavorano su combinazioni più strette perché perché il wargame il gioco di simulazione lavoro su di una roba crea combinazioni su una roba che è frutto di no diecimila e di infinite combinazioni e addirittura le riduce cerca di semplificarle ma comunque rimangono infinite in ex encounter già muovo una pedina in una casella piuttosto che in un'altra a un albero delle possibilità molto più elevato tutto da esplorare quindi anche un napoleo slash battles facciamo un titolo così conosciutissimo hai voglia prima di averlo giocato tutto è sì ok mi cosa è stata euro ma avete idea di quanta di quanto tempo di gioco di quante possibilità di gioco di quante sessioni di gioco avete farlo l'avete fatto prima di averne esplorato il 10 15 20 per cento che poi noi abbiamo sempre sì questa è la nostra colpa che teniamo anche noi war game soprattutto adesso in questo periodo ma c'è sempre stata questa cosa a cercare di comprare la novità prima di avere esplorato anche solo i 10 20 per cento dei giochi che già abbiamo delle loro possibilità è questo questo l'euro game te lo da fino a un certo punto alcuni te lo danno agricola che io detesto perché però alcuni hanno devo dire oggettivamente sono molto interessanti sono fatti molto bene te le danno queste cose sono alcuni war game questo te lo danno a meno che non sia proprio una ciofeca non vi dico tutti ma 80 90 per cento perché nella loro natura di avere questa questa ampiezza di possibilità di gioco caliban ci dice per la creazione di un euro gamer di un euro game ricercatori che praticamente zero sono meccanica più fantasia che fa il resto diciamo si sono meccaniche soprattutto che poi dopo la fantasia sta nel collante che ci aggancia all'ambientazione che importa relativamente poco concordo pienamente sulla variabilità tattico strategica di war game anche un cell è il bellissimo trovo molto stimolante se le un gioco di di estrema semplicità ho capito però va fatto lo giocare tutto in tutte quante le sue possibilità vedete questo mi porta e qui andiamo un attimino a chiudere questa prima parte sul sul prezzo ma tanto poi ci torniamo dopo ad una cosa noi siamo abituati forse questo è anche un discorso un po di percezione questo del prezzo che troppo elevato quello dei war game perché noi siamo abituati a valutare ciò che abbiamo sulla sua semplice materialità materiali componenti la grafica la cosa che va bene non va bene ma poi i pezzettini materiali non sull'esperienza che quell'oggetto che quel bene ci può dare anche io mi compro una camicia o che bella questa camicia vale la pena è colorata non è colorata la stoffa è buona non è buona ma io ho dei concetti molto generici di colore stoffa eccetera non spesso non la valuto per questa camicia mi è utile quanto tempo la porterò mi copre bene mi sta bene in quali occasioni la promi la potrò mettere non facciamo delle valutazioni esperienziali esperienziali è una cosa fondamentale perché i war game giochi di simulazione come tutti i giochi ma soprattutto i giochi di simulazione sono beni a fortissimo valore esperienziali che cosa intendo intendo che io vedo perché se che se io valuto battle for germany soltanto dal dai componenti della grafica dal colore della quantità di roba che c'è dentro posso dire bah anche lì 70 65 euro eccetera quello che sono troppi per una roba del genere che quando mi vedo vicino un arc amor con 500 cose adesso sto facendo nomi a caso adesso non si non si arrabbi nessuno però che magari me lo trovo in offerta 50 55 è ma quello oppure anche 60 70 ma quanta roba c'è ma abbiamo fatto una valutazione esperienziale quanta quanta profondità di esperienza ci può dare un bene rispetto ad un altro al di là del suo aspetto esteriore pensiamoci quantomeno non dico valutiamo soltanto questo però mettiamo anche questo all'interno delle nostre valutazioni cioè qual è l'esperienza il divertimento la riflessione lo spunto anche i punti di partenza che ci dà un bene rispetto ad un altro anche il fatto di prendere un war game sulla guerra non so russo giapponese ma appunto lì sulla guerra russo giapponese rispetto a tokyo train o qualcosa altro del genere o un aerogame qualsiasi che non mi fermo al gioco poi il gioco russo giapponese non ne so niente magari però lo gioco mi fa venire in mente ma non interessa questa cosa e allora da lì parto per delle ricerche successive che un euro game non mi avrebbe dato un euro game su gozilla per tirli per dire magari avrebbe portato avere i figli di gozilla può anche essere interessante però un war game sulla guerra russo giapponese che per la prima volta me la via in prima persona anche se ne so relativamente poco molto spesso magari se c'è una buona bibliografia mi porta a fare delle acquisizioni cognitive successive mi dà degli spunti per ampliare la mia conoscenza e ci sta anche questo nel prezzo dovete valutare anche questo quindi insomma la la cosa è insomma dovete è un gioco di valori controvalori questo non per dire che è giusto che anzi doveva costare 100 120 euro no è chiaro c'è il problema del prezzo oggettivamente c'è è inutile è inutile però però attenzione parliamone insomma valutiamo queste cose mettiamo anche queste cose sul piatto della bilancia quindi quando parliamo del problema del prezzo che c'è che inutile legarsi che c'è però a diverse sia cause che controbilanciamenti francesco rieri ha una domanda tecnica come mai non usi il carattere oro che è super preciso questo perché lo vedete qua questo bel coso questo bel nastro adesivo perché questo già dopo un pochino mi si stava spaccando quindi uso questo di metallo che tanta ci batto i chiodi ed è assolutamente uguale questo lo uso per rifinire però diciamo per il 90 per cento di tagli va benissimo questo io consiglio questo di metallo che indistruttibile di nuovo carino fatto bene eccetera valore esteriore valore esperienziale stessa cosa proprio guardate ma è proprio rimettiamo sulla bilancia enrico musante dice l'esperienza possono arla anche molti america non ci sono in germa sul german barra euro verissimo gli american infatti non dico che derivano dai war game ma sono più vicini ai war game casi spesso derivano dei war game che molto spesso gli autori sono quelli devono però ecco anche lì c'è un discorso esperienziale già lì siamo più siamo più vicini però se ci fai caso gli american tendono ad avere un pezzo più alto rispetto in genere rispetto gli euro game o i german quindi fatto mettere una vite al mio ore con quattro anni che va con una freccia un sacco di gente mi dice questa cosa mi devi dire che c'è di te fai parlare il tuo ferramenta col mio ferramenta te prego enrico poi poi ci sentiamo migliori però possetti che mi trovo molto bene con questo perché questo è un casino della madonna scusatemi è brumosissimo questo clac 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 che anche la moglie ringrazia e sinceramente mi ci trovo meglio dopo un po sarà mi sono abituato più leggero meno grosso vabbè sono questioni di abitudini 2 5 se me lo chiedete 2,5 mm taglia tutto va benissimo se preferite il 2 mm comunque adesso non andiamo avanti perché vedete che ne stiamo parlando di questa roba siamo già 50 minuti allora adesso affrontiamo l'altro il secondo grande punto dolente di questi nostri world game che è quello della reperibilità allora quello della reperibilità è un altro è un altro problema mica da poco ragazzi miei perché di nuovo io faccio una bella recensione di un bel gioco e poi voi mi dite a ma dove lo trovo aspetta faccio una ricerca google ti do un paio di indirizzi non lo trovo più da nessuna parte da nessuna parte scomparso dopo che io l'ho acquistato dopo due mesi dopo due mesi che io l'ho acquistato mai esistito autostoc autostoc autostocchi che è sta roba mai e diventa diventa complicata a caliban scusatemi tornando prima un'altra caratteristica infatti vorrei installare qualità per affrontare l'evento non sapevo di castelliter e paolo sauce e ho approfondito riguacevo che ci parla dell'abitudine di usare questi rispetto agli ori non grossi castelliter posso dire che io non sapevo una cosa di castelliter castelliter la conoscevo l'episodio non sapevo che fosse stato il 5 maggio il giorno del mio compleanno ve la butto lì vedete si scopre sempre roba sempre pensato oltre a napoleone ma ci sarà stato un altro evento della storia militare importante il 5 maggio castelliter sì no c'è anche la di sabbe e tanta altra roba però vabbè però castelliter mi ha fatto piacere un episodio che è particolare vabbè comunque a parte questo quindi allora parliamo però adesso torniamo poi ai nostri argomenti non vi paghiamo troppo che poi c'è chi mi dice che non sono concreto vabbè no sto scherzando ragazzi allora la reperibilità e il problema è che appunto questi giochi spariscono e anche in fretta un caso su tutti atlantic chase ok preso tanti chase wow poi lo vedete ci farò il blog che ci lo sto facendo blog però parte che c'è remise napoleone come aspetta mi prendo un po di tempo perché questo è un gioco veramente particolare e me lo devo studiare non posso buttarla lì io non li butto mai lì giochi lo sapete che io almeno sempre un po quindi non troverete quasi mai su blog l'ultimo gioco appena arrivato che ho provato tre giorni mi prendo il mio tempo perché lo voglio provare bene lo voglio conoscere bene beh mi prendo il mio tempo per l'atlantic chase dico sì ok dai tra una cosa e l'altra mi ci cura almeno un mesetto perché lo faccio i tutorial faccio le mie cose eccetera eccetera e poi scopro che autostock e allora mi chiedo aspetta un attimo ma io adesso esco come voglio uscire con l'atlantic chase più o meno a metà giugno c'è stata un'altra notizia per un gioco che autostock cioè io vi parlo di un gioco che o avete già o che se non avete non potete giocare perché non lo trovate e dovete aspettare fortunatamente sembra abbastanza poco la ristampa e questo è un problema è un problema serio è un problema per me che parlo dei di giochi figuratevi per perché anche si limita ma giustamente semplicemente li acquista per giocarli si crea una specie di finestra di finestra di opportunità scusatemi caliban sta dicendo un consiglio fondamentale per l'oregon incollate uno spessore tassellino di 10 milimetri più più un piccolo fettino all'interno di uno dei due matrici e la pinza clipperà senza andare a fondo corso non si fletterà e non si romperà caliban poi mi mandi il progetto il blueprint di questa roba perché non lo voglio più imparare come mi stai dicendo comunque a parte questo dicevamo quindi si crea questa specie di finestra di opportunità attanti c'è appena arrivato già sparito perché era grande successo sono felicissimo fanno subito una stampa ma è questo crea un problema come parlarne come fare girare notizie perché le volte non è soltanto il problema che non si trova il gioco alle volte non si trovano ma con le notizie sul gioco prima che quel gioco sparisca proprio perché ci sono le basse tirature perché spesso vengono dal dall'estero quindi c'è c'è poco poco spesso insomma è difficile trovarle tutto quanto va bene quello che vi pare ma sparisce e questo crea dei problemi questo crea dei 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 problemi sono determinati anche qui da avere cose il primo come il problema sul prezzo è determinato dalle basse tirature qui ovviamente ne abbiamo già parlato anche prima dai dai bassi stock perché chi ha anche in europa degli stock di giochi che vengono magari dagli stati uniti ne compra ne prende anzi a magazzino relativamente pochi ma anche chi li produce proprio in europa di nuovo li stampiamo li stampa e ne ne stampa tantissimi quindi comunque gli stock sono spesso limitati in più questo problema del uso sto scritto clippando scipione 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 piano e questo è un momento un po importante per me e dicevo lo stesso la stessa mancanza di circolazione delle notizie fa male fa male al nostro settore cioè il fatto che non circolino più di tanto sia difficile reperire notizie su determinati giochi per questo anche i canali youtube dove sono così importanti fa sì che effettivamente diventi difficile poi reperire il gioco medesimo perché non sai che c'è un certo gioco non sai che c'è una certa un certo aspetto un certo titolo che ti può interessare quindi non lo cerchi magari quando lo sai quello già bello la finestra di opportunità dicevo si è si è chiusi per questo sono e sono fondamentali canali youtube per e l'ho sempre detto per il settore volga mistico anche uno dei motivi per cui esiste questo coso che si chiama vlog su cui vi siete sintonizzati cortesemente questa sera va detto anche che con la pandemia ce lo dobbiamo dire il settore volga mistico è stato pesantemente colpito ma soprattutto il settore volga mistico era già stato colpito da un'altra cosa che secondo me il lecino nei negozi fisici che era un aspetto fondamentale proprio perché c'è una bassa diffusione di notizie al di fuori dei del passaparola dell'amico che ti dice guarda ho provato questo work game fantastico sulla seconda guerra mondiale su questo attimo che cambia tutto il declino dei negozi fisici o quantomeno del settore di work game all'interno negozi fisici ci ha colpito tantissimo a noi questi negozi un tempo erano luoghi ideali di aggregazione scambio di informazioni riperimento dei titoli titoli che potevi trovare lì sugli scaffali quindi prenderli guardavela la scatola quindi aveva un altro rapporto anche e oppure che li potevi ordinare è vero che ce ne sono ancora anche qua a roma ce ne sono ancora di negozi così ma sono veramente pochi sono veramente l'eccezione io però prima di riccardo affinati strategia tattica via del colosseo le giornate del ragazzino che passavo semplicemente a guardare a un po come nei negozi di dischi di vinili di vinile a sfogliarmi non assogliarmi ma a guardare le copertine delle riviste dei di strategia tattics vediamo un po e ricco ci dà qualche notizia anche sulle dogane il miglior posto e bgg sì e anche di questo mi anticipo una cosa di cui parleremo enrico musante alla base dei prezzi elevati a scassi di vita sempre se il problema tiratura con soluzione sarebbe aumentare il numero dei possibili acquirenti giustamente per la reperibilità spesso mi trovo a comprare giochi che non giocherò subito perché so che dopo non li troverò più sono degli investimenti per carità si fa però capisci che non è una dinamica una meccanica normale questa per esempio ho comprato usato 1985 under liner sky di tinder lights non la e perché tinder lights non lo ristampa sì si può fare però è una dinamica un po problematica quindi abbiamo detto questo decreto dei negozi fisici a noi ha fatto molto male perché hanno tagliato un luogo dove appunto poi si scambiavano informazioni esperienze e vedevi potevi toccare con con mano questi e questi titoli così e così particolari poi per carità c'è anche la grande cosa che il grande discorso dei negozi online che magari un po difficile trovare grande negozi online di giochi la parte dei war game o a roba che oggettivamente alle volte chiede un po ma perché me l'hanno catalogata come war game o comunque sia boh vabbè sono roba che trovi normalissimamente ad alta tiratura ha già a meno bassa tiratura è vero che ci sono appunto questi negozi online io dico sempre cercateli perché ci sono negozi online in italia molte che hanno ottime forniture di war game ci sono anche in europa l'alternativa anche vedere o possono lo trovare in italia cercano in europa francia in germania soprattutto si trovano anche in spagna si trovano degli ottimi degli ottimi negozi poi c'è purtroppo la triste storia la triste tristissima storia della brexit che ci ha tagliato un po le gambe è vero che certi negozi inglesi non è che te li regalavano i giochi ma adesso veramente che ci metti pure la dogana veramente crea un problemi o questo è molto interessante questa di federico la scassa di primità e anche un rovescio della medaglia del crowdfunding sì è una delle distorsioni che ha creato kickstarter che ha creato tanti aspetti positivi ma ha creato anche questo aspetto negativo perché alcuni ormai vendono solo su kickstarter quindi se se canni il kickstarter se becchi male che è un'altra finestra di protetta che se non sai della campagna di kickstarter la manchi e non recuperi più verico ci ricorda spagna spese postali produttive sì purtroppo penso sì quindi anche quello dovete un po calcolare chiaro che se magari fai degli ordini che magari ti mette conto con gli amici riesci a recuperare ecco vediamo appunto qualche possibile soluzione a questo problema sia un po del siedere reperibilità ma anche un parte anche del prezzo la prima cosa è state sui social state nelle associazioni leggetevi le riviste c'è parabellum appunto ne abbiamo parlato proprio come nell'ambito militare visto che parliamo di wargame l'informazione è un'arma preziosa se voi sapete subito che esce un gioco e magari riuscite a trovare delle analisi o comunque sia degli approfondimenti su quel gioco per tempo avete siete un passetto avanti per riuscire a ottenerlo prima che vada appunto autostock diventi introvabile oppure aumenti disperatamente di prezzo quindi dovete stare un po all'occhio questo è un un settore che ahimè questo si va seguito anche i giochi e anche gli euro game in generale hanno un po questa cosa perché anche lì ci sono stati dei casi anche poi dopo parlavamo di kickstarter altro ma non solo che provvisamente dopo un anno sono finiti in manile a finestra delle opportunità di un anno che si chiama in italiano corsare dei carabili merchants and marauders io poi me ne sono trovato la cosa base però mi è stato difficile trovarmelo ed è diciamo un euro game comunque un american ambientato però è vero anche che sono da cercarlo tre quattro anni dopo che era che era stato che era stato editato enrico ci ricorda che sul gruppo ecco io questo lo metto anche in evidenza valgame e valcom ci sono i gruppi di acquisto per il giappone addirittura alle volte è più economico facile per i giochi degli autori giapponesi dei giochi europei italiani non parliamo del tristissimo caso di winx glory che purtroppo le varie problematiche non riesce a trovare un distributore italiano quindi più facile prendersi gli aeroportini all'estero di winx glory che italianissimo come prodotto è un problema di distribuzione purtroppo questo c'è non è colpa di nessuno quando sicuramente non degli autori di e dei produttori di winx glory caliban laser games negozio inglese dopo brexit prezzi che erano già in sterlina decollati ma anche se con c'è un senso l'ho buttato lì nome conosciutissimo nel nostro settore continuiamo con le possibili e con le possibili soluzioni le versioni io le chiamo poi le versioni virtualizzate di questi giochi cioè sul pc attenzione non sto parlando delle trasposizioni proprio come computer game che sono stati fatti da alcuni ma vassal e tabletop simulator questo mi viene molto molto agio parlarne proprio relativamente a atlantic chase atlantic chase per carità è difficile aprirlo ed è anche quello che mi ha convinto che alla fine sto video lo farò e ve lo dirò del video guardate sì è vero anche se non ce l'avete guardate un po' questo video e vi scaricate tutto perché scaricabile al bgg tutti quanti i vari regolamenti di scenario e poi ve lo andate a giocare su tabletop simulator o vassal perché ci sono i moduli ok e lì trovate tutto e dell'esperienza molto vicina poi però niente pirateria vi prego sono sono gli strumenti di promozione poi dopo vi piace l'atlantic chase e ti piacerà tanti chase già ve lo dico non lo so non a tutti piacerà però secondo me molti piacerà e poi dopo quando esce la resta farvi comprate le edizioni cartacea quindi considerate che di molti giochi nell'attesa di riuscire a trovarli in versione cartacea che è sempre quello che dobbiamo avere perché sempre cartaceo è sempre un'altra cosa c'è anche questa alternativa virtualizzata virtualizzata io come sempre controllo 48 10 5 5 10 o uno dei segni che le clip in night stanno venendo bene e che sto andando piano nel fare le né clipare i counter perché sto parlando molto con voi e mi fa piacerissimo allora andiamo avanti quindi anche queste persone virtualizzate sono molto punti portati poi c'è un altro aspetto che è la grande virtù la grande cosa che a me piace tantissimo delle ristampe delle riedizioni le designer series certo quando sono fatte bene quando sono fatte bene però ecco queste ristampe delle edizioni rendono improvvisamente irreperibili quel gioco super classico di cui avete sentito parlare in migliaia di volte nei forum e o guarda un po la compass la gmt ne ha fatto una nuova edizione e tra due mesi arriva tutto quanto bello migliorato con i componenti magari dopo vent'anni l'autore finalmente ci ha messo tutti gli errata perché magari sono giocato per vent'anni nei tornei e ce l'hanno infiliati inzeppati lì e anche qui mi fate capire perché perché vengono criticate le case editrici che fanno queste ristampe queste riedizioni è chiaro o caliban ci parla di un gioco fondamentale che è stalingrad pocket per esempio mi spiegate perché vi arrabbiate se compass fa la riedizione di the african campaign con la designer series o gmt fa la riedizione di 1918 1919 o di altri perché poi per carità perché sì ecco francesco sì è vero a fine serata avrei clippato 20 pedine al massimo facciamo così per chiacchierare poi le pedine si posso riparare anche da soli questa cosa bella eh non lo trovo eh grazie anch'io ci ho passato i mesi per trovarlo non diciamo il prezzo a cui l'ho trovato non diciamolo ehm quindi per carità ehm dicevamo dicevamo che male c'è lo spiegate poi vi può dire che il gioco in partenza non vi piaceva per carità e allora non vi interessa non lo comprate ma perché mi dite che è un male che esistano che qualcuno faccia queste riedizioni se io mi faccio le edizioni di african campaign che è un grande classico che è un grandissimo classico beh e che me lo rendo disponibile anche al al giovane wargamer che appena cominciati dico guarda giocati questo qua non lo devi andare più a cercare nello scantinato in danimarca del tizio che se lo vende a 200 euro ma te lo trovi a 40 euro che male c'è a me sembra una cosa bellissima e anche anche qui ah perché gli editori lo fanno per guadagnarci sì è viva bravi lo fanno per guadagnarci ma perché ci investono perché magari contattano il vecchio autore che ti fa tutte quante le correzioni che gli altri aspettano da vent'anni va bene funziona così salutiamo anche paolo zammarchi che ci saluta a tutti quanti quindi viva 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 le ristampe le riedizioni le design e series quando sono fatte bene perché possono anche essere fatte male ma questo dobbiamo tenere un pochino di sale in zucca possiamo dobbiamo un attimino giudicare poi ripeto poteva non piacerci magari il gioco di partenza non ci piacerà neanche la riedizione oppure la l'edizione ci piacerà vediamo insomma anche se fosse una maniera stampa uguale identica dice enrico ecco qua c'è di male che è stato nel mercato di zombie costrigendo scelte non sempre facili sono politiche per il collezionismo sì ma non solo perché collezionismo di nuovo se è un gioco degli anni 80 che è molto importante hai voglia a cercare e se uno sta cominciando non si mette a collezionarlo semplicemente lo vuole provare mi puoi dire che se tu ti concentri solo su fare riedizioni non fai giochi nuovi e questo è vero usi rossi da una parte non lo usi dall'altra però siccome non è soltanto riposo a somma zero puoi anche dire che fai un po di cash un po di dopo per finanziare le novità va sempre tutto quanto considerato all'interno della politica editoriale complessiva certo se una ditta mi facesse soltanto riedizioni magari infatti non benissimo come faceva la decision games ai primi tempi sì ok sono il primo a dire ma che cos'è questa cavolata però se invece me lo fai è appunto e di nuovo pensa le ristampe decision games ecco qua e rigo però attenzione l'ultimo napoleon l'ultimo l'ultimo battle for germany forse finalmente dopo 20 30 anni hanno imparato a farle ste benetti ristampe riedizioni quindi 10 giochi bellissimi rovinati parliamone caso per caso molto spesso è ragione ma ma spesso anche no nel senso ma spesso ci sono dei casi in cui invece sono state fatte delle delle scelte delle scelte giuste ricordo coppace games con bitter woods per esempio un ottimo lavoro un ottimo lavoro con bitter woods ma ti ripeto anche alcune cose della decision ultimamente salutiamo anche eugenio maria pazzelli ripeto sono cose poi da da vedere sicuramente secondo non ha molto senso obiettarlo e ma lo fanno soltanto per fare soldi lo fanno anche per fare soldi ma è il loro lavoro farci soldi quindi dobbiamo essere un attimino no non dico cinici ah ecco no e vedi per esempio tu mi questo questo è un discorso interessante due russian campaigns chi non lo sa non ne parliamo subito russian campaign è un gioco di russian campaign classicone assoluto del world game classicone assoluto del world game che appunto gmt però è anche colpa di gmt me l'ha messo in ristampa con la ridizione nuova ridizione eccetera saranno dieci anni più o meno o sono dieci otto nove anni che ha il p500 che è arrivato a posto tutto posto il preordere tutto fatto e poi non me lo tira fuori e poi arriva compass games che fa una ridizione che non è la ristampa rimodifica di russian campaign che vuole fare gmt ma è praticamente una ristampa brutale di così come senza quasi aggiustamenti sì quella è un'operazione commerciale ci posso stare però anche nasce per un'inerzia di gmt se gmt mi avesse fatto uscire russian campaign con le cose fatte serie io non so se compass games si sarebbe infilata dentro e poi lo devo ancora vedere perché hanno annunciato ma non c'è ancora però ripeto va benissimo ci sono i casi non è che è sempre sempre tutto tutto buono però ci sono dei casi in cui effettivamente hanno la loro utilità e il genio maria azzielli si verrà solo mario va bene deciso in games cali ma batte per germany con carta errato con l'edizione precedente filologia dell'errore questo ne ho parlato anch'io sì anche qui perché me lo tieni e lo so infatti ci sono delle problematiche però sacco di gente batte for germany dice a ma te lo trovi tranquillo a 20 30 euro usato sì però parte che ti trovi la vecchia edizione che per carità però può avere anche dei problemi ma devi sapere che c'è bgg devi sapere che c'è mercato dell'usato devi sapere non è uno che è appena entrato e gli dice il batte for germany è un gioco bellissimo dove lo trovo vai su bgg cerchi il link vai nel mercato dell'usato poi dopo prendi cioè si perde questo e soprattutto non perché il mercato di oggi e soprattutto i giocatori di oggi spesso se sono nuovi non hanno questa nostra sensibilità di andarsi a fare tutte quante queste ricerche poi gli viene gli va insegnata perché è importante anche questa cosa di insegnare che nel mondo dei wargame deve andarti un po punto a cercare le informazioni ma dall'inizio non posso chiedere ad un 30 35 n che mi arriva non dico se magari il ventenne mi faccio il tappeto rosso che dice ma voglio giocare disperatamente battle for germany dove lo trovo meno male che gli posso dire vatti a prendere la cosa delle season games appena uscito gli dirò poi guarda c'è anche sta cosa della filoggio errore hanno fatto questa roba abituate gli errato ragazzo saranno compagni per tutta la tua vita di wargamer però vedete che c'è anche qui gli aspetti positivi no non sto paolo non sto clippando atlantic chase anche perché non sono legnetti li dovrei clippare con una ma credo a parte gli scherzi no 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 sto sto clippando te lo ricordo anche a te che sei arrivato più tardi de bello punico il gioco di riccardo affinati per l'ultima parabellum e infatti caliban cose dice dunque dopo il tuo video e ancora e colpisca ancora e colpe via l'ho preso eccolo qua vabbè comunque adesso a parte anche il costo degli stampa che su questo ripeto c'è tanto da c'è tanto da parlare e poi altre soluzioni possibili kickstarter e preordini che sono sempre un po una lotteria perché anzi no non una lotteria sono una scommessa sono scommessa io acquisto un gioco su kickstarter perché scommetto sul fatto che mi piace quel gioco e leggo le iscrizioni vedo le cose scommetto che mi piace magari no preorder i p500 di gmt o anche quelli di compass eccetera quando mi convengono stessa identica cosa scommetto sul gioco però ovviamente giochi nuovi reperibile spesso prezzo ribassato quindi è una soluzione e sul kickstarter non dico che mi fermo qua però insomma lo teniamo un attimino dietro perché appunto c'è tutta una serie di dinamiche di meccanica e magari ci avremo un'altra clip in night sui kickstarter su come il mondo del world di wargame sta usando il kickstarter nel bene perché ha aiutato molto il mondo di wargame ma anche con le problematiche connesse come sempre poi su questo ci confronteremo e anche confronteremo le nostre rispettive esperienze un'altra possibile soluzione qui si è la lotteria è la grande lotteria dell'usato perché nel senso sì ci sono i mercatini potete trovare questi giochi spesso usati magari appunto anche qui a prezzo ribassato su varie piattaforme intanto quale piattaforme beh ovviamente borgen geek dove c'è non tutti lo sanno ma di ogni gioco scade di ogni gioco di borgen geek c'è una sottoscheda che si chiama market che è la lista di tutti quelli che l'hanno usato anche con coso con le condizioni e poi entrati in trattativa c'è ebay c'è ebay che anche lì è occhio però ebay spesso ci trovate quelli appunto lì super collezionisti che vi sparano cifre da capogiro e poi ci sono i mercatini magari nelle convention quando si ritornano in presenza i mercatini le aste c'è veramente di tutto si giusto dice enrico bisognerebbe avere kick postman ecco quasi giustamente dicevamo quindi ci sono queste piattaforme qualche piccolo consiglio per chi non è molto addentro ovviamente ma una cosa che le cose classiche del comprare su questo tipo di piattaforme utilizzate piattaforme che siano non il sitarello che avete trovato così che siano diciamo quantomeno quantomeno affidabili bgg ebay eccetera insomma che abbiano un minimo di affidabilità che abbiano dei sistemi soprattutto dei sistemi di feedback anche nei gruppi ce ne sono diversi anche su internet anche dedicati a wargame che hanno anche dei sistemi di feedback sì e di nuovo sono ottime occasioni ci ricorda ricco però è bisogna sempre fare attenzione bisogna anche una cosa importante lo dico sempre verificate l'edizione perché spesso di un gioco ci sono diverse edizioni e magari appunto ne abbiamo parlato prima edizione di stampa magari vi rifilano una cosa di prima edizione che ha tutta una serie di problemi che sono stati risolti in una seconda edizione quindi informatevi anche sul gioco stesso e quando vi dicono c'è nella voce e fatevi dire ma che edizione è se magari c'è scritto un second edition c'è un trucchetto andate poi a vedere c'è un trucchetto anche per capire dai codici gmt quale di stampa è quindi quei tratti sulle scatole quel molto è molto importante ne abbiamo parlato in un video poi verificate le condizioni non crede non credete come dice uguale al nuovo pari al nuovo un punch ed minimo uso queste cose così fatevi se non ci sono fatti di mandare delle foto delle foto della scatola fatto che chiesa uno strappetto sulla catrò significa niente il fatto che ci sia una mancatura sulla scatola e attenzione come stanno messi componenti interni scatola mappa counter sono stati clipati non clipati sono clipati sono clipati bene sono clipati male eccetera insomma tutte queste cose qua carte che non non siano segnate sul dorso e tutto quanto se è possibile anche i player e insomma fatevi mandare quante più foto possibile se non vi aggiustate di cerico a volte le vecchie edizioni sono meglio vedi britannia può anche starci anche starci che alcune vecchie edizioni siano meglio è no 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 questo questo sono anche sono anche d'accordo quindi alcune volte c'è tutta una diatriba su republic of roma quale sia le edizioni migliore avalon valley eccetera quindi figurati però ecco appunto sappiate bene che cosa state dando dei soldi quindi in soldi sono un lavoro sono tempo sono risorse che voi avete valorizzate nel meglio fatemi andare le foto se non vivano vogliono mandare le foto più letterali perché non sono seri perché fare delle foto dei componenti certo che gli dite foto di ogni pedira ma se gli chiedete una foto della della scatola aperta una foto così dei counter come stanno messi una foto della mappa sono tre foto col cellulare ci si mettono secondi tre a farli se non volevo le fare se non le vuole fare se non le vuole fare il venditore e che forse c'è qualche problemino quindi grazie arrivederci poi accordatevi bene sulla quantità e sulle modalità del pagamento fatelo in maniera quanto più possibile tracciabile e state sempre attenti alle spese di spedizione possibile ideale fare consegna a mano perché così lo verificate anche dal vivo il gioco e tutto quanto ovviamente comunque sia fate attenzione spese di pensione e in modalità di spedizione sempre 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 modalità tracciabili anche se soprattutto se dell'estero anche se anche se vi costa qualche euro in più però quegli euro in più sono una assicurazione sulla vita genio mario pazzielli ma mario dice mi dai qualche diritto per comprare un buon usato oltre che su bgg e tgd credo che si attarano i goblin sì appunto ebay e poi cerca sui facebook mercatino wargame caso sbelli mercatino ce ne sono altri oppure anche nei nei siti nei gruppi chiedi un po' io cerco questo questo gioco attenzione questo perché alcuni gruppi te lo fanno fare altri via le etichette il link sopra più european wargames marketplace ecco questo è interessante che dice erico su facebook poi sapevo anche del forum francese strategico insomma ci sono varie varie fonti grazie derico ecco il eccolo qua european ve lo rimetto wargames marketplace su facebook questo è molto molto interessante quindi ci sono diverse fonti è sempre un po' la loteria dell'usato però si trovano veramente ottime occasioni e si compra in relativa però reale sicurezza quindi andando a chiudere adesso anche questo secondo aspetto della reperibilità parliamo un po' facciamo un po' verso le conclusioni siamo quasi le 11 abbiamo parlato direteci è stata una serata bellissima veramente abbiamo parlato di di tanto andiamo un pochino alle conclusioni e ve la butto lì in maniera un pochino provocatoria e poi anche perché un pochino venuta fuori questa cosa e poi così un male tutto questo che ci siamo detti cioè nel senso che il fatto che i giochi che i war game e war game siano un po più cari un po più difficile di dire è un male allora per molti versi si dire che ce lo ce lo diciamo nel passato questo forse c'era meno ma in realtà c'era per altri versi nel passato non c'era internet quindi ve li dovete fare arrivare per posta quindi lì è ancora più drammatica cosa mi devo andare a trovare le informazioni sul gioco prima di ordinarlo però quando lo ordinavate vi arrivava e ci avete trovato i vostri cataloghi ultimamente nando ferrari ha fatto uscire in 40 anni del dei giochi di grandi e parlava giustamente del suo mitico catalogo con tutti quanti i vari titoli sul quale chi prendeva dal catalogo aveva non dico tutte le informazioni sul mondo dei war game però una buona quantità di informazioni poteva ordinare tranquillamente mario dice ecco enrico dice se fossero così difficili a riprire non avrei triplicato il budget rispetto da dieci anni fa è appunto questo forse non vale che non sono facilissimi da ripetere quindi in realtà sono anche più facili per molti versi da ripetere più che altro però lo dovete oggi rispetto al passato lo dovete lo dovete sapere in realtà questa questa difficoltà questa difficoltà ecco che mi metto il commento di enrico ecco qua e francesco neri mi dice appunto ci dice ci sono piaciuto su calavo bianco e verde dei giochi dei grandi certamente allora quali sono le criticità principali diciamocelo che crea questo problema della ripribilità del prezzo il problema è che crea dei problemi di percezione dei war game cioè vengono effettivamente proprio per queste per queste problematiche percepiti dal grande pubblico come giochi difficili troppo cari un po bruttini complicati solo per specialisti vedi quanto costano quanto è difficile trovarli piuttosto che l'ultimo euro game di grido che trovo apparente dal pizzicarolo per chi non è di loma dal fruttivendolo diciamocelo al mercato giochi e vi da un po dare non lo vuoi diciamo al grande pubblico che alla fine questi siano giochi per cui in fondo non ne vale la pena e qui entriamo in quel circolo vizioso perché tutto questo diventa un limite effettivamente la diffusione del war game è il pericolo come sempre di questa breve espressione della nicchia della nicchia che il war game è la nicchia della nicchia che fa diventare verde come halk ogni volta che la sento perché si crea questo circolo vizioso per cui poco pubblico crea alto prezzo ne abbiamo parlato prima in chat alto prezzo crea poco pubblico alto prezzo poco pubblico alto prezzo poco pubblico e si crea questo grande circolo vizioso da cui noi non usciamo e questa effettivamente è una criticità reale per certi versi va spaccata certo ci sono alcuni war game che spaccano questa questo circolo vizioso perché per esempio perché io lo dico continuo a dirlo è inutile che me lo diciate perché a me è piaciuto un don't ed così tanto anche da un punto di vista strategico perché va esattamente contro il discorso nicchia nella nicchia infatti è stata stappata in più grandi direttore da una grande casa produttrice la osprey che ve l'ha messo a 25 euro su amazon è un board game don't ed è un board game ci faccio le 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 t shirt può piacere come non piacere però un board game però un board game 25 euro che chiunque può trovare su amazon e questo spacca il discorso del circolo vizioso vede poi diciamocelo la situazione attuale non è poi così drammatica come anche noi un pochino ce la faccio ce la facciamo vedere perché abbiamo parlato di tante soluzioni ma ci sono anche tante caratteristiche del mondo del board game oggi che diminuiscono questa problematica vanno vanno ad alleggerirla ci sono tante soluzioni c'è la soluzione nel print and play anche qui può piacere o meno ma se io vado su work in volt c'ho quasi tutto e quasi tutto no però un due terzi del catalogo con la spile a 10 dollari prezzo bassissimo ripelibilità immediata click mi arriva me lo stampo me lo monto e via chiaro print and play però c'è quello è una soluzione artigianale ma c'è questa soluzione che questa è una cosa relativamente nuova comunque c'era sempre stata però in così diffusione che in questo momento mentre vi parlo potete andare su world in volt scaricarvi un vuoto di roba di di hollo spile a prezzo ridicolmente basso non c'era prima poi altra cosa importante diffusione delle riviste il gioco che stiamo clippando stasera riviste 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 le riviste sono un mezzo fondamentale perché danno informazioni perché vi danno approfondimenti e spesso vi danno giochi a basso costo e spesso quei giochi magari sono dei scenari che poi dopo la stessa casi di produttrice amplierà e trasformerà in gioco e scatola tantissimo questo è un valore estremo ah ecco enrico ci dice old school tactical per esempio ora viene venduto come print and play potrebbe essere una soluzione per molte aziende che non ristampano per ragioni di costi sì ecco caliman ci dice un'altra cosa fondamentale è uno dei pochi word game localizzati in italiano non tocco volutamente la questione localizzazione perché è enorme però sì ovviamente questa cosa spacca anche la nicchia della nicchia anche dal punto di vista della barriera della barriera linguistica poi altra cosa positiva che c'è attualmente abbiamo detto and on ted questi giochi ibridi che oggettivamente utilizzano anche meccaniche da euro game però in ambito simulativo o quasi simulativo come volete comunque diciamo in ambito in genere war game istico ampiano il pubblico applicano la ampliano la fetta di pubblico su una più ampia diffusione e quindi spaccano questo circolo vizioso e poi e poi ci sono diciamo le positività e chiamiamole così virtuose che parlavamo prima anche con enrico il fatto che non sia così facile così compulsivo così a distanza solo di un clic ma dobbiate anche soltanto un attimino fare delle ricerche anche se un pochino spendere c'è anche di soldi ma più altro di tempo eccetera per trovare per approfondire se un gioco vi piace o meno vi fa da un lato scadenzare meglio gli acquisti perché non vi comprate 10 war game una botta soli quindi non ne giocherete mezzo perché più war game comprate meno ne giocate questa è la mia esperienza se ne compro 10 war game quei 10 war game un mi singolo e quei 10 war game lo giocherò molto meno rispetto a quando ho comprato uno sulla cosa in un mese però mi sono dedicato un mese a quel gioco lì quindi attenzione e e vi fa entrare proprio che altro in un altro rapporto meno un po meno compulsivo questo sì questo c'è inutile che ce lo nascondiamo non dico che è una cosa bella che bello che costano così tanto che sono difficili a trovare così ne compro meno però diciamo quanto meno ecco evito quella cosa compulsiva uscita l'ultima novità del momento evitatela anche voi vi prego assolutamente cerchiamo tutti quanti insieme di evitarla perché è una cosa che porta la sotturazione e in genere alla diminuzione di nuovo dell'esperienza e di nuovo alla alla lunga alla morte del settore per eccessiva produzione e poco consumo quindi essendo dei beni di nuovo per avere senso e per rimanere per mantenere il loro valore devono essere consumati e quindi utilizzati ecco quindi cercate di è la scimmia caliban dice dice gli ami di più enrico enrico ci fa vedere la scimmietta e la scimmia quella di gabbana e la scimmia che si alza ecco è la scimmia che ti sale sulla spalla che ti fa comprare tutto occhio perché pericolosa la scimmietta alcune volte è anche giusto perché ci dobbiamo gratificare però attenzione il gioco di nuovo non sono giochi se non gli giochi il gioco è un'esperienza il divertimento del gioco evitate che sia soltanto il comprarlo o solo l'ammirarlo c'è anche quello per crità ma giocatelo se non non ha senso che ce l'avete federico ci dice per alcuni giochi della local load si può scegliere se acquistare la versione stampata o pnp a basso prezzo sì i giochi molti di quei giochi quelli delle battles on demand qui ho fatto il video credo proprio un mese scorso e sono sono fatti così sono sono ottimi da questo punto di vista ma non lo fa soltanto la local load publishing quelli seri vi fanno che il differenziare tra il print and play sono 10 euro ecco i livelli costi di produzione con i margini minimi e e quelli cartacei sono 40 50 e 10 dollari 40 50 dollari quelli poco seri vi mettono il cartaceo 50 dollari e il print and pay a 40 no non ci sta non ci stiamo capendo ecco non voglio fare nomi però ecco andate contro il mito del nuovo non fate io lo dico da un canale youtube non fatevi su un ingolosire dei canali youtube anche come questo giocate i vostri giochi più e più volte veramente tante questi canali usate i canali youtube usate per quello che devono essere non è non sono roba di vanda marchi non sono delle televendite non è il canale di shopping dei dei work game devono essere e cercate dei canali che rispettino questi criteri degli approfondimenti sui work game sul work game in generale partendo dai singoli titoli che poi vi fanno danno degli ottimi così ma non comprateli solo perché l'avete visto visto in tv visto su youtube no ragioniamoci insieme perché poi perché da poi non lo compro può sempre vendere però è brutta e triste e più che altro vi toglie tempo ad altri giochi che magari verrebbero soddisfatto di più certo caliban dice nel senso che c'è anche questo se fai fatica a cercarlo a trovarlo ne trarrai più soddisfazione se riesci ad acquistarlo come i fumenti è questo questo c'è questo esattamente quello di cui stavamo parlando prima però ecco soprattutto usateli e giocategli dategli assolutamente assolutamente un un senso giocateli più volte esplorateli andate al di là dello scenario 1 una cosa classica che si prende un gioco si gioca lo scenario 1 fossero il scenario 2 poi il scenario 13 non lo giocherà mai nessuno no proprio se potete dopo che avete imparato le regole cominciate lo scenario 13 è più facile che giocate quelli prima così almeno avete giocato anche quello e questo per giochi nuovi ma anche vecchi tra virgolette io ancora oggi scopro cose nuove di giochi vecchi vecchi di 20 o 30 anni dico sempre l'estate scorsa mi pare quando sono stati da papà e mamma e abbiamo giocato i prestag delle spi che hanno più anni di me e ci ho trovato roba nuova nel senso di a livello di esperienza è il loro bello questo qua perché i giochi di simulazione sono tutti quanti siccome ricreano dei mondi dei mondi di possibilità sono dei mondi infiniti da esplorare e quindi anche se ci tornate dopo tanto tempo giochi che già avete troverete altre cose altre altre esperienze allora 4 scusate mi può sempre fingo di clippare no no sto clippando sul serio 45 ok perfetto perfetto ecco qua 469 3 3 6 3 9 perfetto per la vaschettina e sì perché prima non sono numerati bene quindi c'è c'è anche questo dovete approfondire ciò che avete prima di estendere la collezione so che sembra assurdo però ricordiamo non è solo una cosa da vecchia zia che vi sto dicendo è così da vecchia zia o se viene mamma prima devi giocare prima di comprare ma comprate neanche di nuovi ma per carità ma lo sappiamo però non dimenticate di approfondire ciò che avete prima di estendere la collezione perché poi magari scoprirete che tornandoci dopo un tempo ci avete dei veri tesori in casa e che sono veramente tutti da scoprire quindi ok acquistiamo così ok cerchiamo roba nuova siamo d'accordo è tutto bello però non limitiamoci solo da acquistare anche perché il tempo che dedicate ad acquistare non lo state e a provare di imparare giochi nuovi non lo state passando a giocare ad approfondire giochi vecchi quindi attenzione questa è una cosa molto molto importante non cadiamo nella trappolina questo ok la scimmia sì ok ci sta anche la scimmia però questa è una cosa importante e allora qui ultima cosa proprio per chiudere non vi chiedo con una risposta una riflessione vi chiedo con una domanda perché tutto quello di cui abbiamo parlato finora ci porta ad una domanda di una domanda che vi pongo che vi dovete fuori anche voi il vero prezzo dipende da un'unica cosa della risposta a questa domanda qua quanto vale per voi un war game quanto vale per voi quel war game è una domanda che dovete che vale 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 il fatto di 70 80 90 euro siete solo voi che potete dare questa risposta dice caliban hai ragione ma poi come dicevo prima vuoi prendere volume 2 ma non lo trovi più è anche qui anche qui è un'altra valutazione vale continuare a seguire una serie se arrivi al volume 2 il volume 1 manco l'hai aperto ti piaceva poi davvero quella serie così tanto o non è il caso di lasciarla lì che tanto magari il volume 2 prima o poi lo ritroverai non c'è più così tutta questa fretta perché devo avere fretta di comprare volume 2 di una serie di cui non ho giocato il volume 1 in cinque anni in tre quattro anni cinque anni ma in tre anni in tre quattro anni forse perché il volume 1 non era così interessante allora se non era così interessante il volume 1 forse ma quel volume 2 occhio perché sono un po dei dei meccanismi su cui noi dobbiamo farci attenzione poi ognuno fa quello che vuole non è che voglio dare giudizio non dovete comprare per carità decenni però vi sprono a utilizzare anche queste criticità come delle opportunità di riflessione perché ci dobbiamo sempre sulla scimmia ed è anche ripeto una cosa bella scimmia perché ci fa scoprire giochi nuovi interessanti anche un po l'inputs buying e questo impulso ci sta però mettiamo tutto prezzo reperibilità eccetera tutto quanto nel suo bel contesto e continuiamo a pensare i giochi di simulazione ci insegnano a pensare continuiamo a pensare facciamo strategia anche sull'acquisto dei giochi di strategia è un'altra parte del gioco questa quel vetola con una parte delle dell'esperienza ludica il fatto dell'appistare o meno di come acquistare altri giochi e di continui come portare avanti questa esperienza è una parte del gioco anche questo quindi noi adesso andiamo a chiudere qui questo argomento ma se uno che stimi ti fa voglia di comprare un gioco come fai a credergli quando fa la zia mi dice mi dice enrico no ma non è neanche di fare la zia è che è il gatto a l'olpe si un pochino si per carità però sempre chi stima quando ti consiglio un gioco ti consiglia tu oggi mi hai convinto a comprare quello l'ultima di paper wars ma insomma l'ho vista poi l'ho approfondita eccetera mi hai dato degli spunti di ricerca cioè chi stimi ti consiglio un gioco ma è che ha me l'ha consigliato lui loro lo prendo io ti consiglio dei giochi tu mi consigli dei giochi chiunque ci consiglia dei giochi quelli sono degli inizi di un approfondimento sul gioco stesso poi non fa anche le sue cavolate compra della roba che pensava che fosse che fosse bellissima poi scopre che ma no una cavolata allora bella rivendi di nuovo vedi l'usato quindi il mercato è abbastanza ristretto però ecco cerchiamo di evitare a ho visto tizio su questo il video di questa cosa che belle quelle pedine no anche per questo faccio dei video un pochino non faccio il video di dieci minuti gli unboxing sia fatto un po di blog boxing però vedete non è che faccio l'unboxing boh non lo so si dicono il porto dei wargame ci sta però ragazzi non lo so decido veramente l'acquisto sulla base di un boxing io no per l'unboxing può far venire voglia per far venire voglia di ricercare di più su di un gioco ma non acquisto cioè anche se è fatto apposta per spingermi ad acquistarlo non lo faccio e magari non compro quel gioco le compro altre attenzione che sono un santo che io compro delle cose che mi rendo conto ma che cavolo ho comprato poi infatti poi vendo ogni tanto spesso della roba quindi è chiaro ripeto ci stiamo tutti sulla stessa barra però cerchiamo per quello che è possibile di di pensarci e questa è un po la conclusione prezzo e ripridità dei wargame sono tanto valori e oggettivi quanto però di nuovo valori soggettivi che dipendono anche da noi dalle nostre scelte e dal nostro raziocinio ed è una cosa importante poi dopo continueremo a parlarne altre volte anche nei commenti eccetera però con questo un po volevo un po trattare di questi argomenti che sono fondamentali i commenti pratici della vita da wargamer andando quindi a chiudere io vado come sempre a salutarvi vi ho già dato delle anticipazioni il virtual convention poi parleremo appunto di parabellum di de bello punico poi anche di dawn of battle e poi ovviamente di questo benito atlantic chase ce la faremo a parlarne avremo però tanti altri live già ve ne preannuncio uno a brevissimo questa settimana sulla comunicazione ludica non vi voglio dire troppo però sono comunicazione ludica in italia rivista in edicola che fra l'altro ho avuto l'autorizzazione di dirvi non di dirvi tutto ma questa rivista ludica che esce ridicola italiana in italiano avrà qualcosa di molto 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 importante su quel che questo adesso che esce quindi occhio ho avuto l'attorizzazione di dirvelo di farvi un po di sì di farmi un po di scimmietta ecco vedete che mi metto di nuovo tolte le leali da angioletto mi respuntano le cornetta diavolo tentatori e quindi ricco scusami sulla storia mai cosa intendi perché non su questo su questo non ti seguo poi se magari mi dici mi scrivi in chat le cose e non so se dici di video storici per i propri sì ci sto anche un pochino pensando di fare delle cose degli approfondimenti però magari sempre un po legati al al gioco al gioco insieme quindi dicevo live su comunicazione ludica forse anche live storici sulla storia trasmissione sì ecco ci siamo capiti ci siamo capiti sì questa è una cosa interessante questa magari erico poi dopo ne parliamo anche con te ma anche con altri amici perché effettivamente c'è questo questo discorso sul quale su quale si può lavorare di fare dei live proprio dedicati anche la specie in maniera specifica alla ricerca storica è un'ottima idea questa poi dopo magari ne riparleremo con te e altri tipo atti con i pancaldi tipo quelli che faccio con i pancaldi sì in parte li faccio già per tg com 24 di sì dire perché non lo vede i video che metto ci sono miei su sito dg com 24 la storia sul tavolo che sono appunto degli approfondimenti e degli approfondimenti storici anche se molto compatti però poi dopo magari vediamo anche qualcosa di di trasmissione e anche di di video legati a questo in parte il mese napoleonico voleva essere un discorso in questo senso e quindi avremo varie live anche a giugno avremo altre live e appunto anche live sto lavorando anche delle live si appunto anche di argomento storico ora che non ci penso enrico mi hai aperto una cosa su di una line su cui sto lavorando a giugno dovremmo avere un autore importante e italiano di libri storici e non solo sulla fare con con poi ne riparleremo comunque allora andiamo a chiudere qui la serata che sarà una bellissima serata io vi ringrazio mi rimane ancora a metà di questo gioco che non ha neanche tante pedine molto semplice ma ancora da clippare però significa che è stata una bellissima serata abbiamo parlato tantissimo insieme sapevo che questi argomenti sarebbero stati di grande interesse stasera siete stati veramente tanti mi ha fatto veramente tanto tanto piacere noi ci vediamo con i prossimi appuntamenti io vi saluto vi saluto tutti vi saluto tutti sia voi chi a chi ci ha seguito che magari non è intervenuto in chat anche e anche chi poi ci vedrà ci vedrà in in differita nei prossimi giorni perché poi questi video rimangono come sempre in differita un saluto a tutti buona serata ci vediamo ci vediamo alla prossima e buonanotte a tutti ciao